Buonasera a tutti e bentornati per quest'ultimo webinar a chiusura della giornata odierna all'insegna degli incontri targati Anchors. A introdurre e moderare il webinar dal titolo The Ghost Must Go On sarà l'ingegnere Francesco Carrozzo, dell'opman manager di Anchors, vicepresidente vicario Conf Associazioni Sicurezza con deloga allo spettacolo ai grandi eventi. Forte di un'esperienza professionale pluriannale sul territorio nazionale come consulente tecnico RSPP, CSP, CSE, formatore per la salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In collaborazione con la regione Lombardia è stato docente nell'ambito degli interventi per le emergenze occupazionali ed il rinforzo delle competenze di base dei lavoratori in relazione alle nuove esigenze aziendali. Ha collaborato nell'ambito formativo e della docenza con enti paritecci, altresì ha collaborato in fase di progettazione ed esecuzione per grandi candieri di supporto emergenziale. Da 2019 diventa development manager consulente tecnico e formatore aziendale per l'impiego di macchine, nonché responsabile assistenza, sedi per Anchors, associazione nazionale consulenti e responsabile sicurezza sul lavoro. Banda una pluriannale esperienza come consulente tecnico e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lavori per cantieri di allestimento e disallestimento aereo, per grandi eventi di pubblico spettacolo, per diversi artisti nazionali ed internazionali, convegni, eventi di rilevo nazionali ed eventi fieristici, manifestazioni pubbliche e corpori, festival nazionali ed internazionali. Ricordando a tutti gli utenti che possono inottare domande ai relatori inviando una email a webinar-anchors.eu. Aguro a tutti buon lavoro e un buon proseguimento. Do la parola all'ingegnere Francesco Carrozzo. Buonasera a tutti, intanto aggiungiamo pian piano tutti gli ospiti di questa sera, di questo webinar conclusivo della giornata odierna. Ringrazio ovviamente la direttrice didattica Paola Mirante di Anchors e ovviamente un saluto a tutti i presenti, poi presenteremo pian piano con i loro imparventi. Vedo collegati praticamente delle vere eccellenze italiane per quanto riguarda il settore dello spettacolo, un settore colpito purtroppo dalla pandemia di quest'anno. Vedremo anche alcuni numeri relativi al perdita di fatturato e quant'altro. Potete ben capire che questo settore vantava un fatturato talmente elevato deve essere molto influente anche sul PIL nazionale. Inizierei introducendo il webinar con una presentazione, ci sono delle slide che posso mettere in condivisione e poi passeremo pian piano con quelle che sono le visioni da parte di ognuno dei presenti. Sono sia tecnici, professionisti, iscritti al labbo, ci sono anche gestori di venue, parte tecnica e produttiva per quanto riguarda ovviamente il settore spettacolo e quindi chi raccoglie poi quelli che si sporcano le mani. Potremmo dire che sono sempre presenti, on stage e anche on floor a questo punto e quindi darò la parola poi successivamente a Paolo Rizzi con anche la possibilità di parlarci di questo movimento Paolo in Piazza che ci darà lui anche delle lucidazioni in merito. Abbiamo anche la presenza di un grossissimo fornitore leader in Italia e non solo quindi anche in Europa, ad ora un'azienda leader nel settore quindi ancora una volta parliamo veramente di eccellenze di questo settore. Passerei subito alla presentazione e poi passerei subito alla presentazione in modo da poter poi lasciare i commenti di tutti i tipi. Vado? Un secondo, faccio il prodotto della presentazione e poi vi lascio la parola a Paolo. Ok, dovreste vederla a schermo. Allora, diciamo che partirei con questa frase, la gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto. Beh, effettivamente questo momento, a parte che il biglietto non sta pagando nessuno perché gli spettacoli sono fermi, sono stati magari in precedenza, prima dell'inizio di questa pandemia. Però effettivamente il punto iniziale, quindi da cui partire, se non c'è lo spettatore, probabilmente non c'è lo spettacolo, comunque si dovrà pensare ad uno spettacolo sicuramente differente da quello che è stato finora. Se dovessi fare praticamente anche un racconto di quello che è successo, a parte elencare una serie di norme, per chi fa parte diciamo di questo mondo, sia tecnici, professionisti e quant'altro, sono bene che il mondo dello spettacolo è costituito da tanta tanta burocrazia, tanta normativa, normativa che riguarda la progettazione, safety security, sicurezza sul lavoro, il pubblico spettacolo in genere, quindi ovviamente elencarlo diventa anche un qualcosa che può sembrare pesante, eppure per raccontare questa storia, che oggi riusciremo anche a raccontarci attraverso la visione di uno dei presenti, probabilmente la facciamo anche in maniera molto veloce, vedete che la normativa presente, insomma per il pubblico spettacolo, è una normativa anche che parte dal passato, parliamo di un regio decreto, 1941, qui si dipano ovviamente con una serie di decreti circolari misteriali, vedete, sì, c'è una candela che comincia ad accendersi praticamente qualcosa, perché? Perché si mette inizialmente a cuocere qualcosa, e infatti che cosa succede? Succede che tutte le varie direttive, le varie circolari ministeriali, ricordiamo la circolare Gabrielli, ha tendenzialmente anche segnato una profonda variazione del concetto del pubblico spettacolo rispetto al passato, in particolar modo per quanto riguarda la gestione dei livelli di sicurezza all'interno delle manifestazioni. Poi anche la circolazione del lavoro ha cominciato ad appesantire il settore, e quindi una normativa che magari, se la dobbiamo elencare tutta, è una normativa anche piuttosto vecchiotta. Andando anche un po' veloci, arriviamo a quello che è il testo unico, quindi che ha racchiuso un po' la normativa della sicurezza sul lavoro, quindi ricordiamo magari gli interventi poi attraverso anche il testo unico, la vecchia, la ex 494, dei due sedi del passato, e quindi gli interventi da parte dei tecnici, di coordinatore della sicurezza, responsabili della sicurezza, professionisti del settore, quindi con i vari PSC, i dubbi di assistenza per lo spettacolo, i post aziendali, eccetera. Sicuramente un aumentare della burocrazia e dell'appesantimento di quello che è il settore tecnico. Se vogliamo, anche nel 2012 ci appesantiamo con un'altra circolare che riguarda i sistemi di movimentazione e sospensione degli allestimenti scenici. Ovviamente non finisce qui, perché praticamente qualcuno di voi potrebbe, sì, ma ci siamo dimenticati qualcosa, forse qualcosa che può essere molto importante. Ebbene sì, effettivamente, non l'abbiamo elencato in precedenza, i canieri dello spettacolo non sono canti erediti e quindi nel 2014 un decreto interministeriale che riguarda sia il mondo dei concerti che anche delle fiere, ha lasciato intendere questa circospezione del mondo dello spettacolo, ha lasciato però anche delle criticità con dei vuoti per quanto riguarda il coordinamento legato appunto agli aspetti quindi fieristici. Non dobbiamo neanche tralasciare poi il contratto elettivo nazionale dei lavoratori per quanto riguarda le cooperative dello spettacolo nel novembre del 2014. Ovviamente quando si parla di progettazione di uno spettacolo c'è sia la parte progettuale, impiantistica, la parte della sicurezza, parte relativa appunto a safety security e il pubblico spettacolo, con tutta una serie di elementi, di documentazioni, quindi di burocrazia. Però effettivamente tutti i tecnici, ne parlavamo in qualche seduta che abbiamo avuto con gli altri presenti in una di queste serate, si diceva però effettivamente noi ci siamo adeguati e quindi adeguandoci a tutta questa burocrazia che è successo che gli eventi sono stati fatti. Quindi praticamente siamo riusciti a fare concerti, eventi, manifestazioni, fiere e contatti che siano eventi d'oro, che siano eventi anche nelle piazze, nei palazzetti, dappertutto. Ovviamente se dovessimo racchiudere quello che è il mondo dello spettacolo dovremmo praticamente far conto di che cosa? Di tutti questi possibili eventi, quindi l'aperto, l'aperto, l'acchiuso, il festival, la rappresentazione dei teatari, il live nei club, nei locali, nelle piazze, i corporate, intrattenimento, feste di piazza, vedere, fiere, spilate. E poi dovremmo pensare anche a tutto ciò che c'è intorno e che è ruota attorno. Però che succede? Quindi io vi sto facendo pure che la storia di quest'anno arriva purtroppo il coronavirus. Con il coronavirus la normativa comincia a prendere una piega differente. Quindi il 23 febbraio 2020, primo decreto legislativo, si parla di possibilità di sospensione. O una serie di DPCM, DPCM che tendono a indicare, a segnare la strada verso quella che poi è effettivamente una sospensione che arriverà di lì a breve. E quindi nell'8 marzo, diciamo con il DPCM dell'8 marzo, vedete, indipendentemente da quelli che erano gli aspetti, i requisiti della distanza interpersonale, si parla appunto di sospensione. Praticamente estendendo appunto il territorio nazionale per quanto riguarda appunto queste misure previste dai vecchi DPCM. Praticamente il lockdown, siamo tutti fermi, ci fermiamo, fermo al mondo dello spettacolo. Attenzione che in questo periodo nascono idee anche per ripartire. E quindi c'è chi pensa a fare concerti stile drive-in, c'è chi pensa di montare ovviamente dei pit, delle pedane, qualcosa che possa, diciamo, aiutare anche al distanziamento, ad evitare praticamente e contenere il contagio. Ovviamente le formule sono le più disparate, magari ce n'è qualcuno anche un po' fantasiosa. Avere tutti, diciamo, delle bolle magari rinchiusi per poter comunque seguire un evento dal vivo. Sempre perché lo spettatore è il primo degli elementi, diciamo, cardine di questo settore. Effettivamente continuano poi i decreti e quindi le varie amministrazioni, le varie sospensioni. Quindi per poter vedere un barlume, diciamo, di speranza, ecco, bisogna aspettare quando? Bisogna aspettare praticamente giugno. Giugno per poter poi ripartire. Perché in realtà, vedete, in realtà ci sono delle disposizioni che facevano pensare ad una possibile apertura. con il DPCM del 17 maggio, vedete, comincia praticamente anche la possibilità, diciamo, di confermare anche e limitare alcune, praticamente, sospensioni in base sempre, tenendo presente le modalità di frizione, diciamo, anche contingentata all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo. Come dicevo prima, con il DPCM dell'11 giugno, vedete, si hanno poi, si hanno la possibilità di ripartire, ma con delle restrizioni. Restrizioni che poi, inizialmente, hanno lasciato tutti un po' con, come dire, un po' con lo scetticismo. Probabilmente oggi, con la visione che vedremo anche da parte dei tecnici presenti, quelle restrizioni, magari allargare un po' con le maglie, potrebbero significare comunque lasciare, diciamo, la possibilità, l'opportunità anche a tanti lavoratori di poter effettivamente portare qualcosa a casa, perché si parla di questo. Ovviamente dobbiamo tener conto anche di che cosa, ordinanza regionale, quello era quanto riguardava, diciamo, la gestione del pubblico. Cioè è da considerare anche la questione di sicurezza sul lavoro e quindi anche in questo caso i protocolli condivisi, tutta una serie di gestioni, temperature, gestione dei fornitori, gestione dei contagi aziendali, comità di Covid, tutto quello che c'era da aggiornare all'interno delle aziende. Quindi si riparte? Beh, qui si potrebbe ripartire, c'è un DPCM addirittura del 7 agosto, vedete, la normativa era praticamente una addossata all'altra, c'era un continuo praticamente cambiare della normativa presente appunto all'interno, diciamo, di questa pandemia. Attenzione perché appunto restavano sospese ancora, ad esempio, alcuni eventi che implicavano appunto assembramenti, altri DPCM che si sono susseguiti praticamente il 18 ottobre, il 24 ottobre, vedete, con la prospensione dei eventi. Cioè se prima abbiamo praticamente, abbiamo provveduto a sopportare, supportare e anche a gestire quella che era una normativa cambiata così velocemente, ci è stata data la possibilità di ripartire a un certo punto, quando si erano pronti, quindi ci eravamo preparati con questi nuovi protocolli, cosa succede? C'è il nuovo scopo, praticamente era una falsa ripartenza, confermati praticamente prima ancora di iniziare e questa è storia recente con il DPCM, vedete, con delle sospensioni praticamente totali per quanto riguarda gli eventi. Quindi, in Attenzione c'è una domanda, perché fermare l'ospettacolo dal vivo su un luogo sicuro? C'era una domanda appunto dell'Agis con una sua ricerca, una sua ricerca. Parla di un solo contagiato su 350 mila spettatori, probabilmente legato appunto alla questione di utilizzo anche dell'app Immuno, però effettivamente la domanda, come dicevo, nasce spontanea, perché fermare lo spettacolo? Se è un posto sicuro, se è un luogo sicuro. Allora, se dovessimo pensare anche a dei numeri, perché alla fine parliamo anche di quello, vedete, il settore degli eventi e dei congressi genera circa 65,5 miliardi di euro, con un impatto sul più di 36 miliardi. Cioè, praticamente parliamo di circa il 6,1% del deal. Praticamente chi lavora in questo settore, sì, qui sono riportati 1,5 miliardi di persone, in periodo d'ora, addirittura circa il 3% di aumento rispetto al 2018 e quindi si prevedeva un 2020, fantastico. Ebbene no, nel primo semestre del 2020 il settore spettacolo aveva perso circa il 50% del fatturato, d'ottobre del 95 e le previsioni sono di un 97% di caduta del fatturato. Allora, capiamo chi ruota attorno allo spettacolo, vedete, gli attori dello spettacolo sono tantissimi, io li ho elencati, forse non dovrei neanche rileggere, perché comunque potete vedere così, si scorrono e continuano. Spero di averli raccolti tutti, non sono bastanti, diciamo, né una pagina, né due pagine, sono circa 3-4 pagine, vedete che veramente anche l'indotto che c'è dietro, perché io non ho raccolto soltanto chi fa lo spettacolo, quindi la produzione, i righe, i scaffolder, i tecnici, i progettisti, i piantisti e quant'altro, non c'è tanto altro, vedete, i diritti di guardianina, le security, ci sono i pubblicità, l'accounting, i ticketing, le security show, c'è veramente di tutto, logistic, trasporti, fornure, strutture, è veramente un mondo che non tutti conoscono e che probabilmente sensibilizzando e cominciando a sensibilizzare un po' tutti potrebbe diventare effettivamente, come dire, questo la possibilità per rilanciarsi e quindi sfruttare il momento come un'opportunità, ovviamente oltre a tutte queste, diciamo, questi elementi che fanno parte del settore spettacolo, ne manca uno che forse è il più importante, e cioè lo spettatore, lo spettatore purtroppo è rimasto un po' isolato da solo in questo, diciamo, in questo caso, però effettivamente se noi pensiamo lo spettacolo nello spettatore siamo tornati al punto di inizio, all'inizio di questa storia, in questo caso io semplicemente vorrei introdurre adesso anche i punti di vista, diciamo, dei presenti in modo tale da poter avere anche quella loro visione. Partirei con Paolo, Paolizzi 50 anni e da appena 20 anni segue la produzione dei principali tour e festival nazionali, ma anche eventi corporate, uno dei soci fondatori dell'associazione culturale Bauli in Piazza, un'associazione di lavoratori e di imprese che rappresenta un insieme sinergico di operatori del settore spettacolo. Per Paolo non c'è bisogno di una presentazione sfarsosa, perché alla fine è nell'esperienza, nella passione, nell'impegno per il proprio lavoro che ha trovato la forza di non fermarsi in questo periodo, anzi, è tre di aver intraviso forse una grande opportunità, anche nella pausa causata dalla pandemia, l'opportunità di far venire fuori quelle che sono le criticità di un settore che vale tanto per l'economia italiana e che ha bisogno in parte anche di una profonda ristrutturazione. Lui sarà quello che ci indicherà in parte la visione odierna del mondo operativo dello spettacolo, la visione appunto da parte di chi si sporca le mani, come vi dicevo prima, perché è sempre sul capo, non solo dietro di una scrivania, perché la produzione è anche e soprattutto floor, come vi dicevo, prima che stage, e parter prima che palco. La sua è la visione di chi va in giro per l'Italia all'offre e fa l'impostibile affinché lo spettacolo si faccia sempre e comunque entusiasmo, forse dignità di non si arrendere, mostrando la giusta intelligenza anche per valutare analiticamente lo status generale del mondo spettacolo. Non c'è altro da aggiungere, lascio la parola a Paolo. Grazie, grazie Francesco e grazie per avermi invitato a questo appuntamento, insomma, sono contento di trovare anche diversi amici e colleghi con cui ci troviamo spesso durante l'anno, in altri contesti rispetto a un computer magari, però cerchiamo di ottimizzare questo. Sono tanti e cerco di fare un intervento veloce e interessante perché immagino che se dobbiamo parlare tutti non ci basterebbe la giornata intera. Allora, vabbè, mi hai già fatto una presentazione, io parlo per Baolin Piazza, di cui sono socio fondatore e magari sapete già tutti quanti della manifestazione del 10 ottobre che ha un po' scardinato quell'evento mediatico che poi è riuscito ad aprire canali e porte per far riconoscere un poco quelle figure, quelle quattro pagine di figure che hai, Francesco, pubblicato prima che in realtà sono un vero e proprio comparto industriale che non è mai stato rappresentato in questo paese, ma ha una forza non indifferente e soprattutto è un settore che era in forte crescita prima di questa, chiamiamola, insomma, catastrofe. Io volevo innanzitutto raccontarvi un attimo, siccome sono fresco dell'incontro avuto ieri al Ministero MIBAC di vari soggetti, volevo farvi una breve sintesi di quanto è portato ieri al tavolo e di quanto ho discusso un attimo con delle considerazioni sull'andamento del tavolo permanente per poi offrirvi delle riflessioni e sentire cosa avete da dire in merito ad alcuni punti. Al tavolo del MIBAC ieri erano presenti 83 sigle che possono sembrare un numero molto molto cospicuo di soggetti, però c'è appunto da fare un'analisi per cui innanzitutto questi soggetti non avranno mai trovato una convergenza prima nel loro lavoro e quindi ognuno, anche noi stessi, quando lavoriamo, non è che abbiamo tempo molto di stare a fare analisi, confronti e vi dicendo. Quindi siamo partiti subito dal dire che nella sfortuna di questa situazione epidemiologica cerchiamo di trovare il lato positivo. Il lato positivo è questo, è il lato che molti professionisti, molti lavoratori e molte imprese e soggetti in questo momento di fermo si parlano, analizzano delle situazioni, si confrontano, si discutano, litigano come capita costantemente anche delle buone famiglie, trovano dei punti di convergenza e probabilmente delle soluzioni per riuscire a vedere la situazione in un modo positivo. Per questo il mio intervento che ho avuto ieri al tavolo si è incentrato innanzitutto su tre capacità che dobbiamo tirare fuori in questo momento, che appunto sono l'intelligenza, l'intelligenza che si esplica attraverso lo studio analitico di tutto il nostro settore per arrivare a un punto cruciale nel nostro aspetto, cioè per arrivare a quel riconoscimento professionale che ci possa dare veramente e finalmente la dignità che merita il nostro lavoro. Perché purtroppo moltissime delle professioni che fanno parte di questo mondo non hanno riconoscimento e alcune sono equiparate a delle professioni con le quali non hanno niente a che fare o pochissimo a che fare. Come voi sapete perfettamente anche molte norme sono adottate da altri comparti e adattate poi al nostro. Ci vuole però anche dell'entusiasmo in questo momento e l'entusiasmo l'ho visto e lo vediamo ogni giorno dal nascere di tutte queste associazioni. 83 sono un'enormità di sigle, però in realtà sono anche una ricchezza, perché riuscire ad avere un unico tavolo, un unico argomento di discussione e vedere tutti questi movimenti di tanti soggetti diversi per professioni e per competenze, che però col massimo rispetto e mi ha impressionato moltissimo il fatto che c'era la scadenza di venerdì scorso alle 18 per la consegna dei documenti da portare al tavolo e sembrava un po' come se ci fossero i compitini per casa della classe delle ricerche che tutti quanti facessero per sforzarsi alla fine di riuscire a trovare sintesi e consegnare queste cose entro alle 18. E vedere questi documenti consegnati dalle 17.44 alle 17.59 da parte di 30 soggetti i quali si scrivevano in chat, si telefonavano, si confrontavano, si mandavano documenti, secondo me è un buon segnale invece. Questo entusiasmo è fondamentale in questo momento, perché con questo impegno e con questo confronto si possono tenere risultati. La terza capacità su tutte che deve emergere e che ho avuto modo di evidenziare è la forza, la forza proprio nell'organizzarsi, nel senso che partecipare attivamente, far partecipare alle sigle che c'erano ieri sul tavolo e allargare i confronti a più soggetti possibili per farli partecipare attivamente, può essere solo positivo perché si possono scardinare, tirare fuori i reali problemi di questa situazione e provare a progettare con coraggio ed entusiasmo delle soluzioni. Ci vuole coraggio e entusiasmo a progettare queste soluzioni. Ci vuole coraggio e ci vuole coraggio per identificare i lavoratori professionisti di questo settore, che come dicevo prima, devono avere un riconoscimento e non devono essere dimenticati da nessuno, non devono dimenticarsi, perché non ci si può dimenticare di chi l'arte la costruisce, perché altrimenti un giorno rischiamo di cancellare tutte queste immagini che potremo avere nella nostra vita futura. Quindi noi, per esempio, con Bauli in piazza, e volevo anche rilanciare questa nostra iniziativa nuova, abbiamo presentato l'altro ieri a Milano, lo faremo in altre per adesso 4 o 5 piazze in giro per Italia, il famoso albero di Bauli. Abbiamo avuto una rappresentazione di questo albero di Natale fatto con 60 Bauli, che poi sono i famosi fly case, che sono i contenitori del nostro sapere, quello che ogni professionista conosce bene nel nostro settore ed entusiasmo alle cose sue. E sa perfettamente che ognuno è ben geloso delle cose dei suoi strumenti del lavoro. Bene, su questi alberi, il primo inaugurato a Milano, adesso stiamo facendo, partiremo Roma il 15, anche altre città, e racconteremo delle storie dei lavoratori. Quindi con delle interviste, con delle pillole mirate, faremo parlare proprio quelle figure professionali di quelle tre pagine che hai mostrato prima, che per un popolo esterno al nostro, di chi non fa questo lavoro, rappresentano dei nomi che non hanno minimamente idea cosa ci sia dietro. Allora, mostrando le facce, le mani di questi operatori e raccontando un po' la storia, speriamo di riuscire, e stiamo riuscendo, a umanizzare un attimo e far conoscere meglio questo settore, perché senza la conoscenza diventa difficile spiegarla a tutti. E non è vero che dal punto di vista governativo sanno tutto. Abbiamo avuto diversi incontri, anche prima dell'incontro di ieri con il ministro Franceschini e altre parti del governo. Effettivamente un po' di giocare anche a favore loro, fare un po' gli ignori su altre cose, ma su molti aspetti, veramente non hanno le idee sufficientemente chiare. Anche perché sono arrivate molte in un periodo molto concentrato di tempo e quindi credo che non sia neanche facile riuscire ad avere chiarezza su tutte queste situazioni e avere una visione politica equilibrata di questo. È importante evidenziare, cosa che ho fatto anche ieri, che mi collego a quanto presentato da te Francesco prima, il danno di questa chiusura totale degli spazi. Il danno è totale perché il pubblico ha bisogno di partecipare a questi eventi insieme agli altri. Il capirsi, l'osservarsi, il riconoscersi, il condividere le emozioni assieme, la condivisione dei corpi, nello stare insieme, sono tutte emozioni che non si possono perdere ed è pericolosissima questa situazione. Quindi bisogna veramente darsi da fare per riuscire a mantenere vivo questo desiderio e questa compartecipazione. Perché in questo senso a noi fa molta paura lo streaming o queste cose da mandare per tv. Perché sono le emozioni, questo tipo di emozioni, non vanno attraverso nessun tubo cattodico, nessuno schermo. Queste sono parti di vita vissuta che fanno la scuola di tutti quanti noi. E non si può abbandonare questo o fare in modo che il pubblico si allontani da questa situazione. Quindi bisogna veramente pensare a qualcosa di importante da creare. Per questo Bauli in piazza, assieme a Dasso Musica, assieme a Fedas, che è la società dei service, assieme a Squadra Live, che è un altro gruppo di tecnici che si operano specificatamente nel mondo della musica dal vivo. E assieme a Chiamate Noi, che è un altro gruppo, sempre che si è venuto a creare in questo momento, per far fronte all'assenza di lavoro di questi tecnici. Perché la problematica centrale è dovuta a una perdita di professionalità. Nel senso che il fermo, il blocco totale, oltre a disabituare il pubblico a stare insieme, allontana le professionalità da questo mondo. E questa è una cosa molto pericolosa, perché l'Italia è famosa, sia in tutto il mondo, per offrire dei tecnici e dei servizi tecnici di alta qualità. Non è una scoperta di oggi che le maggiori inaugurazioni mondiali, dei giochi olimpici, delle manifestazioni più importanti, vengono fatte da ditte italiane con tecnici italiani, la quale professionalità è riconosciuta ovunque. In Italia, soprattutto nei periodi estivi, dove c'è il picco dei lavori, i lavoratori e gli impianti strutturali sono veramente notevoli. E la paura fondamentalmente nostra è che se c'è un lungo stop, tante di queste figure professionali specializzate troveranno altri impieghi. Solo nell'ambito delle strutture vi segnalo che già il 40% degli scaffa ha cambiato lavoro ed è una sola delle categorie. Oggi abbiamo fatto un incontro con i rigger e anche loro stanno facendo altre cose. E non è così automatico che nel momento in cui ripartiranno i lavori normalmente queste persone torneranno indietro e saranno recuperabili. Questo sta a significare che di quanto una multinazionale può venirci a dire che riprenderà a lavorare solo quando riprenderanno gli stadi, se gli stadi riprenderanno dall'oggi al domani, non ci saranno le professionalità per poterli realizzare gli stadi. E questa è la lungimiranza con quale tutti quanti noi dobbiamo portare ad andare avanti in questa direzione. E quindi nel documento che poi Francesco magari riuscirà a condividere, ma noi lo condivideremo anche già oggi, credo domani, sulle pagine social di Baul in Piazza, si potrà leggere nel dettaglio quelle che sono le proposte di queste sigle che abbiamo sottoscritto al documento. Per cui una parte sono ovviamente di aiuti ai lavoratori che si sono trovati in una situazione veramente di emergenza, ma di sopravvivenza. Nel senso che molti lavoratori, e non voglio entrare nelle specifiche, poi casomai lo faremo successivamente, ma per esempio tutti quelli intermittenti con contratti a chiamata si sono trovati da un momento all'altro a dover vivere veramente con 300 euro al mese e sostenere delle famiglie. Quindi ovviamente il nostro primo intento era quello di riprendere il lavoro, però se il lavoro non può essere ripreso deve essere sostenuto, i lavoratori devono essere, deve essere permesso ai lavoratori di poter andare avanti a vivere quantomeno. Questo è un discorso che magari non riguarda tanto il MIBAC o l'aspetto dell'ocultura, quasi più direttamente al diritto del lavoro e per questo noi abbiamo chiesto un tavolo direttamente col Ministro del Lavoro per discutere di questa cosa e del fatto che ci possa essere un reddito d'emergenza, fino a fine emergenza per faccia sopravvivere queste persone per i mesi che sono a seguire. Detto questo, altri punti che abbiamo portato avanti riguardano tutta la problematica del codice a teco, di chi rientra e non rientra e quindi sui ristori particolari, delle problematiche emerse con tutto quanto sollevato dall'Inps per i quali alcuno non riusciva a recepire determinate indicazioni e molte categorie sono rimaste escluse dai ristori e quindi anche questo è una cosa che deve essere risolutiva nel più breve tempo possibile. Detto questo, un punto centrale invece al di là di questi sul quale mi sembra di dover porre l'accento proprio con voi in questo momento riguarda proprio la richiesta immediata di un tavolo tecnico per la ripartenza. Questo è un argomento che purtroppo è un argomento più delicato di tutti quanti ma deve essere messo intavolato immediatamente. C'è bisogno, secondo quanto ci riguarda, di un patto d'emergenza che riguardi tutta la filiera e quando parlo della filiera parlo tutta la filiera dagli artisti fino all'ultimo dei facchini. Deve esserci, deve esserci, tutti quanti devono essere sentiti su questo e deve esserci fatto con un accurato studio, un'analisi secondo noi attraverso modelli graduali di crescita, di ripartenza, di confronti reali con quanto sta avvenendo a livello mondiale e internazionale. Noi come Bauli in Piazza abbiamo la fortuna di avere dei contatti internazionali con delle sigle come Bauli in Piazza che è We Make Events International oppure Mute in Spagna o altri gruppi che sono in Sud America nei quali ci sono delle realtà tecniche che stanno facendo delle analisi di questo tipo. La mia provocazione, il mio suggerimento, il mio invito è bene che da queste cose qua fuoriesca un pool di tecnici specializzati che abbia la possibilità di fare anche dei confronti degli aggiornamenti a settimanali ogni 15 giorni con quello che si verifica e cosa stanno facendo i tecnici delle altre parti del mondo. Perché secondo me prima riesce a prendere una visione internazionale questo della ripartenza, prima è più facile sarà portare il governo a delle scelte utili in tempi giusti per poter mettere in piedi questa cosa. Ci sono stati fatti diversi studi inerenti a questo, di cui ci sono anche tra i presenti qua dei soggetti che hanno partecipato attivamente con Asso Musica, Amazzo e l'hanno fatto anche per i congressi, con Fedel Congressi con cui parliamo costantemente di questo. Hanno fatto degli studi che possono essere ampliati e tarati su questo. Quindi il mio invito è a prendere con forza, a riprendere con forza in mano queste cose che sono migliorabili perché hanno già dei documenti molto validi e riuscire a convincere il governo ad adattare delle normative flessibili su questi studi per poter finalmente poter riuscire a programmare una ripartenza sensata che non vorrà dire salvare il compatto perché probabilmente anche questo prossimo anno l'estate sarà molto molto impegnativa e lascerà molto macerie. Però almeno riuscire a tenere delle fondamenta o dei mattoncini che ci permettono di continuare a poter sperare e poter ripartire veramente come eravamo prima perché poi a noi tutti quanti ci lamentiamo delle regole questo e l'altro però quello che vogliamo noi sono proprio delle regole per poter poi studiare il nostro. Quindi lo stimolo che deve avvenire nei confronti del governo deve essere proprio questo. Siamo seduti a un tavolo, siamo la pari, ora le regole anche se devi darci delle regole devi anche ascoltarci noi e insieme facciamo queste regole per cui non possono essere il parametro delle 200 persone al chiuso quello su cui lavorare per una reale ripartenza. Io mi fermerei qua perché sennò dopo non vorrei buttare troppo carne al fuoco anche perché poi mi sono dilungato e credo che i tempi si hanno già dato oltre tutto quanto. Se serve sono qua per qualsiasi risposta e per qualsiasi altra riflessione. Ok io approfitto perché tu durante il tuo diciamo intervento hai parlato e hai fatto riferimento alle eccellenze diciamo italiane anche all'estero al loro servizio diciamo al prestare servizio e lavoro all'estero per eventi di notevole rilevanza tra cui punti giochi olimpici e non posso non fare intervenire a questo punto l'ingegnere Angelo Camporese per Agorà. Angelo Camporese esegue le produzioni di Agorà in particolare l'aspetto organizzativo come supervisore tecnico essendo un senior network system engineer. Risponde alle gare di appalto tender e è capito ai dati seguendo anche l'acquisto di materiale e coordinando poi il lavoro in luogo per l'Agora Crew. Agorà inutile dirlo è un'azienda leader in Italia per il noleggio, la fornitura e l'installazione di sistemi di impianti audio, luci, video, richeraggio, strutture, set decorator, per la realizzazione di ogni tipo di evento musicale, aziendale, sportivo e di massa. È stata fondata nel 1990 dai fratelli Wolfango e Vittorio Di Amicis attraverso una grande attenzione verso il cliente e la capacità di personalizzare poi e fornire un prodotto di alta qualità cresce rapidamente nella forma e nella struttura fino a diventare oggi un'azienda leader in Italia e tra le più grandi d'Europa, sempre al top in forniture di ultima generazione, vanta praticamente il supporto in termini tecnici e di materiali per almeno l'85% degli eventi musicali, sportivi, italiani, nonché corporate anche di rilevanza nazionale. È leader anche all'estero con collaborazione appunto per eventi di caratura internazionale e per fare un esempio l'ha già detto Paolo con gli eventi olimpici. Praticamente abbiamo l'onore di ascoltare anche l'intervento di chi contribuisce poi attivamente, materialmente e tecnicamente alla realizzazione dello spettacolo. Il peso delle esperienze e lo sguardo sempre propenso all'innovazione demarcano quella che è la linea di lavoro di Agora. La visione dal punto di vista ovviamente del fornitore, non uno qualsiasi, ma il leader del fornitore per lo spettacolo, l'assistenza e il supporto agli eventi diventa fondamentale all'interno anche di questo webinar che volge anche alla sensibilizzazione dei fruitori. Quindi posso lasciare la parola all'ingegnere camporese e spero, vediamo se è attivo. Eccoci qua. Buonasera a tutti, intanto ringrazio la presentazione Francesco, correggo solo sul termine ingegnere, non sono ingegnere, sono uno che arriva proprio dal negozio di strumenti musicali e poi si è evoluto nel tempo. Ringrazio Paolo per tutto quello che ha detto in merito a quello che si sta facendo, la percezione. Io andrei però un attimo indietro per fare il punto su come lavoriamo, per chi lavoriamo noi e dopo tutte quelle che vengono a seguire, tutte le professionalità che vengono a seguire. Vedo tutti ingegneri che ho incontrato in varie occasioni che asservono lo spettacolo, ma dobbiamo chiedersi una cosa, da dove è partito lo spettacolo e che percezione ha la gente dello spettacolo che poi si riflette in decisioni governative con la percezione che hanno alle spalle. Noi siamo cercensi, siamo arrivati da una parte storica che è sempre stata defilata e nella percezione, secondo me, della gente rimani defilata. L'uomo nasce con delle esigenze molto basiche, mangiare, dormire, riprodursi ovviamente, però arriva tutto, la società è basata su queste regole attaviche, quindi tutto quello che facciamo noi è un qualcosa che riguarda la cultura che poi noi asserviamo, perché non siamo quelli che salgono sul palco a dire delle cose, noi facciamo sì che questo avvenga. Però siamo una conseguenza di questo, quindi l'aspetto culturale che dà la percezione della nostra importanza è complicato. Questo che è accaduto ha fatto svegliare tutti, svegliare tutti noi sulla parte del contributo che diamo con le nostre professioni, ma tutto parte da là. Ci siamo improvvisamente svegliati tutti quanti e abbiamo capito che eravamo poco organizzati, che la percezione della gente dello spettacolo non è così forte, però è il momento giusto per farci riconoscere. Tutto quello che ha detto Paolo ha proprio fondato su questo, su farci riconoscere anche dallo Stato stesso, anche tra di noi, l'importanza, i numeri che prima non conoscevamo, che riguardanti il nostro contributo al PIL, che è un lavoro, e mi soffermo sulla parola lavoro, si è capito che la gente in generale, e si riflette sull'organizzazione sociale di tutto il mondo, perché ci sono 12 milioni di persone che lavorano nel nostro settore, in tutto il mondo, non era così alta. La prima cosa che si è bloccata è proprio tutto quello che riguardava il nostro lavoro, il nostro settore, la percezione della cultura, che nella società è ritenuta ancora adesso marginale. Ora, era un'introduzione per capire da dove arriviamo, ma soprattutto, ovviamente, perché ribadisco, il nostro è un lavoro, lavoro vuol dire persone che si muovono, che producono, che mangiano, che portano a casa il cibo, alle famiglie, e che questo ci dà la forza di essere, secondo me, in questo momento riconosciuti, o farci riconoscere. Sono nate, come i funghi, tutte le associazioni, da 10 persone a 20, a 100, per fortuna adesso, se cominciano, ci siamo trovati tutti in bauli, in piazza, è stato un grandissimo aumento. Per riunire tutte queste professionalità e far vedere che la cultura è anche un lavoro, è un qualcosa che contribuisce al PIL in maniera importante, quindi la società deve tenere conto di questo. In Italia, soprattutto, dove tra cultura, musei, teatri, abbiamo lo storico del mondo, in merito anche alla creazione di tutta una serie di cose, con orgoglio, lo portiamo avanti, ma adesso andremo a vedere come affrontare questa cosa qua, perché non si risolve. Tornando a noi, siamo al, se va bene, 75% di fatturato in meno? Per alcuni anche il 90% in meno? Agorassi è salvata, parlo per l'azienda per cui lavoro, che sento mia, in senso che ormai di tantissimi anni che ci sono dentro, da una decina d'anni io mi sono concentrato sui grandi eventi e gli eventi internazionali, per quello alcuni di voi non li ho visti, ma perché frequento poco i tour, se non appunto negli eventi internazionali, a parte Paolo che ci siamo trovati più di qualche volta insieme. Quello che posso portare a vedere la mia esperienza arriva dall'estero, dove la percezione invece che il nostro sia un lavoro è molto più forte. Quando siamo andati a fare le prime esperienze olimpiche, parlo già dal 2006 con Torino e poi con tutte quelle a seguire in Russia, a parte i paesi del nord-est diciamo così, della fascia orientale addirittura, piuttosto che in Brasile, la percezione dei colleghi che abbiamo avuto dai colleghi stranieri era che per loro è un lavoro reale, molto sentito, molto rispettato, specialmente negli Stati Uniti, dove tutto il mondo anglosassone, dove un sound engineer, mamma mia, c'è del rispetto a certe cose, noi siamo ancora disegnati come gli scappati di casa, ma in senso la gente non riesce a capire cosa facciamo, è un problema di tutte le cose, se già la gente non percepisce cosa facciamo, figurati se quando vanno a discutere al governo che percezione hanno del nostro settore, siamo i primi da chiudere, gli ultimi che cominceranno, sono frasi che sentiamo da dieci mesi, ma rispecchiano tutto quello che è nella società. Ora, invece, tornando al cosa fare, perché adesso abbiamo capito tutte le cose, cosa si può fare? Come tutte le aziende, insomma, lungimiranti, abbiamo diversificato i nostri interessi, in modo che chi è monoprodotto, come sempre, se viene a mancare quello, muore, 90-95% in meno. Chi diversifica, noi l'abbiamo potuto fare, lavorando da anni all'estero, abbiamo potuto dirottare delle energie su dei lavori che faremo nell'area araba, piuttosto che l'expo, piuttosto che, insomma, c'è gente che è concentrata, comunque, anche se hanno rimandato di un anno tutto quanto, ovviamente, e la paura loro non era tecnica nel fare le cose, ma sicuramente non ci sarebbe andato nessuno. Quindi, ovviamente, tutti hanno messo le mani avanti e hanno detto, pari pari, saltiamo tutta la cosa. Sarà difficilissimo risalire. Tutti hanno cominciato a programmare, già a marzo di quest'anno, ma sempre più, quando ho visto la malparata, le sensazioni. Hanno rimandato tutti di un anno. Ma, arrivati a questo punto, abbiamo capito che sarà un anno e mezzo, se va bene. Se va bene, qualcosa ripartirà estate 2021, se tutto va bene. Certe multinazionali hanno già dichiarato che partiranno dopo settembre 2021. Multinazionali che sono importanti, nel senso che hanno un pacchetto di artisti così forte che, se non partono loro, tutto il nostro comparto soffrirà in maniera veramente importante. Bisogna capire come gestire la transizione di quello che sarà possibile fare a marzo, piuttosto che abbiamo dei punti, secondo me, di vantaggio dove poterci organizzare e forzare. Sicuramente i luoghi controllati, i teatri, i cinema, tutti i luoghi dove ci sono i posti fissi, cioè non è che metti le sedie a caso, ci sono già le sedie là, devi decidere dove… e quindi bisogna lavorare sulla sensibilizzazione di tutte le forze che decidono, e quindi il governo, e quindi importanti tutta la comunicazione fondamentale, lavorare su questo. I limiti che io ho trovato assurdi e che trovo assurdi i suoi numeri a caso, dati da gente che non sa nulla del nostro settore, nel fissare dei 200 posti, 1000 posti, non mettendoli in percentuale, sono stato un danno strepitoso, perché poi quando fai il primo DPCM che scrive una cosa del genere e non c'è il confronto, tu non lo puoi modificare. Cioè, alla fine abbiamo fatto uno spettacolo in arena con mille deroghe, con qualcuno che è andato al governo per cercare le cose e hanno fatto entrare un tot di persone, per fortuna, almeno in percentuale al posto dove vai. È chiaro che se un posto tiene… scusate se ripeto queste cose che abbiamo vissuto tutti in questi mesi, ma sono la chiave, anche del futuro. Se, ad esempio, noi lavoriamo in auditorium a Roma, ci sono tre sale, una da 700, una da 1200, una da 2800 posti. E lo scemo, perché lo devo dire così, che ha scritto 200 posti al chiuso è uno che ha scritto delle cose a caso, non sapendo, non organizzando, non percependo l'importanza dei lavoratori che erano dietro a questo, ma declassando con una firma tutto il settore, ritenendolo non importante. È questo il problema. Finché non combattiamo questa percezione, finché non portiamo i numeri, cosa che sta accadendo con i tavoli di discussioni aperti, troveremo gente che non appoggia. Devo dire che il ministro Franceschini è, uso parole forti, è, però è un incapace, cioè è uno che non ha coscienza del settore che dirige. Gli è stato detto una cosa, non ha approfondito e solo, solo negli ultimi, forse nell'ultimo mese, ha percepito qualcosa e ha cominciato a fare qualcosa, dopo dieci mesi. È una tragedia. Se uno va a vedere i numeri è una tragedia. 600.000 persone, quello che sono rimasto stupito è che dai telegiornali, dalle tutte pietreforme che sembrano copia in colla, tra l'altro, c'è anche questa problematica della poca critica, se mettiamo dove dicono che ci sono 300.000 persone che devono ritornare al lavoro, dimenticando completamente gli 600.000 che sono fermi. Noi, cioè in senso generale. È un problema serio. La non percezione. Tutte le cooperative sono a chiamata, sostanzialmente, perché il sistema che negli anni si è creato e che ha permesso comunque l'organizzazione è stato fondamentale, perché comunque la cooperativa, il datore di lavoro, forma i tecnici che poi vanno con una degna copertura ad affrontare i lavori, quindi è stato un passaggio fondamentale. Però per lo Stato italiano sono tutti lavoratori indiretti. Per lo Stato italiano i disoccupati sono solo quelli iscritti alle liste di disoccupazione. Quindi 600.000, questa frase, siamo invisibili, è tutto vero. Per lo Stato noi non esistiamo, perché essendo iscritti alla cooperativa, adesso io non sono personalmente che sono un dipendente diretto, la maggior parte sicuramente è fatta la chiamata, sono tutti lavoratori per lo Stato occupati, quindi se ne è occupato poco o niente. Non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Questa è una problematica forte. Ora, andando a risolvere più che a lamentarsi, insomma, dello Stato di fatto che è stato importante, è stata una presa di coscienza veramente forte per tutti noi. È venuto fuori qualcosa con tutti i ristori e quant'altro, almeno si sono aperte delle possibilità. Io credo poi si vada verso un'organizzazione pratica che deve essere ovviamente molto più completa e diversa dall'attuale. Questo ha esortato anche noi a non vivere più nel singolo, ma a riunirci. E questo parlo per tutti, perché dietro a un microfono, a un faretto, c'è sempre… Io faccio l'esempio che… imparai da una richiesta che mi fa fatta a una riunione. Quando uno dice «ma quando serve amplificare una persona?» Era una domanda piuttosto banale, ma in realtà fondamentale. Se c'è un artista di piazza che va in piazza come gli antichi a fare la cosa, non gli serve proprio niente. Nel momento in cui gli serve parlare a più persone, serve un sistema di amplificazione, fino ad arrivare al medioevento, al grande evento, dove serve tutto. E tutta la lista che Francesco ha fatto prima delle professionalità coinvolte è enorme. Anche l'ingegnere strutturale ovviamente, chi produce gli oggetti, chi li fa funzionare, tutto quello che asserve lo spettacolo. È una massa di gente e di professionalità fortissime, che erano invisibili. Adesso sono saltate fuori, per fortuna. Detto ciò, i due elementi chiave su cui lavorare sono la sicurezza delle persone, e qui insomma siamo in presenza del meglio del meglio, che riguarda i lavoratori, cioè che lavorano in sicurezza, però così a percezione io lo considero già una cosa piuttosto o comunque abbastanza facile ad affrontare, nel senso che sei in presenza di tante persone preparate allo spettacolo, a parte gli scappati di casa o al nero, di cui qualcuno faceva riferimento prima. Cioè quelli preparati comunque sono persone che possono gestire, tutto sommato poche, riescono a gestire abbastanza bene la sicurezza, specialmente negli ultimi anni. Io sono partito nell'87 a fare questo lavoro ufficialmente e non c'era nulla, nulla che riguardasse la sicurezza. Ci siamo inventati noi la sicurezza, su certi posti, fino ad arrivare a un'organizzazione negli anni, poi con tutte le varie leggi che sono state anche citate in sequenza, arrivare comunque a un'organizzazione che permette una sicurezza importante e interessante. Più che altro, come faceva presente Francesco, Sipria e anche Paolo, la gente, è la gente che va a vedere lo spettacolo. Se non portiamo la gente non succede nulla, noi non lavoriamo, noi siamo in grado adesso già di preparare o di avere delle idee, ma bisogna rendere le pratiche qualcuno che capisca che i 200 posti a chiuso o i 1000 all'aperto devono essere rivisti immediatamente, se vogliamo ripartire, garantendo tutta una serie di cose. Ma il teatro è una delle cose più facili da fare, cioè se devi creare come in un ristorante un ingresso e un'uscita, decidere quanti posti che ci stanno dentro, sicuramente arrivi quasi al 50% degli spettacoli che la si può contenere, se li gestisci bene. Ammetterai delle hostess in più, farai delle cose, degli steward, però insomma su certi luoghi si può già dire. Quello che è più preoccupante oggettivamente è il palasport, anche se il parterre del palasport, perché in realtà le tribune sono già dotate di sedie, quindi già da limitazioni di certi tipi. Per quello riguardo agli stadi è veramente più un po' complesso, gli spazi aperti sono veramente importanti. Partavo l'altro giorno con l'ingegner Morlini della RCF Arena, parlo di Reggio Emilia, quest'area che sono andato a visionare e per cui stiamo lavorando per fare tutta l'infrastruttura di comunicazione, insomma, dentro network che farà funzionare tutto il sistema e lì sono spazi aperti, non sai bene come comportarti. Vaccini, non vaccini, facciamo entrare solo i vaccinati, lì si apre un mondo, insomma, complesso per chi potrà fare queste cose o no. Lì è una più preoccupante. Credo che sia, diciamo, qualcosa che sicuramente verrà analizzato successivamente, il fatto di poter far rientrare almeno quanta più gente possibile, perché effettivamente bisogna ripartire da lì e approfitto ovviamente del lancio che hai già avuto. Direi l'ultima cosa riguardo a questo, che deve anche, un aspetto psicologico, cambiare la percezione che ha la gente o della sicurezza personale, dei genitori, quindi ragazzi, di qualsiasi cosa, deve cambiare la percezione sicuramente arrivando a una serenità diversa. Che adesso è stato seminato, il terrorismo che è stato fatto, perché, scusate, io lo definisco proprio così, cioè definisco terrorismo la comunicazione non corretta. Quando non c'è comunicazione corretta, univoca, è un qualcosa che non è pragmatico, ma è, crea un'ansia diffusa e finché non sparirà quella, i grandi eventi negli spazi aperti saranno difficilissimi da gestire. La gente si deve sentire più serena. Assolutamente. Approfitto appunto di quello che tu dice, riguardo ai posti e ovviamente all'evenio per introdurre anche la visione di chi poi gestisce un avenio. In questo caso, il dottor Magno Marrone, lavorato in scienze politiche nel 1995, questa università di studi di Bari, completa il suo percorso anche con un mapper in managgimento dello sport, fa dello sport la sua passione e diventa anche attreta, fin dal 2005 addirittura allenatore di settore giovanile e dirigente, a giocare in serie B per più di dieci anni e dirigente anche in squadra di serie A. Nel 2018 addirittura ha ricevuto da Coni la stella di bronzo al merito sportivo. È un manager sportivo e imprenditore. Da dieci anni si occupa praticamente della gestione del palasporto più grande della Puglia, il quarto nel centro-sud ed è uno dei più importanti addirittura d'Italia. Il palazzetto qui, penso, la maggior parte di loro, diciamo, un passaggio sicuramente l'avrà fatto. Manio Marrone è anche amministratore unico appunto della di Pallaflore, è titolare della Manio Marrone Sport eventi, quindi si occupa, sì dal 2010 ad oggi, di che cosa? Di organizzare eventi, campi estivi, sportivi anche per bambini, in città, addirittura anche nelle strutture turistiche, campi mondiali di pallavoro, qualificazione europea di pallavoro e calcio a 5, gestisce ovviamente anche una polisportiva all'interno, diciamo, dell'area, quindi dell'Avenio, con più di mille attriti, collabora con il Pone del Comune di Bari. Come social amministratore e direttore dell'Olimpia SNC ha creato un network internazionale per quanto riguarda lo spostamento, trasferimento, praticamente, di attreti e tecnici professionisti a livello internazionale, per quanto riguarda la pallavoro, pallavano e calcio, ha curato i rapporti con diverse aziende multinazionali, anche ora di istituzione in Italia di prodotti sportivi, ha realizzato piani di marketing e strategie per la ricerca degli sponsor, un po' di enti, federazioni, impianti, società, il suo intervento quindi oggi è l'intervento di chi mette a disposizione poi l'Avenio, per gli eventi, di chi mette a disposizione ovviamente i luoghi dove fare spettacolo e quindi la visione è anche di chi ha visto saltare tanti appuntamenti musicali, sportivi, di intrattenimento e non. La visione ovviamente di chi accoglie praticamente quello che è il pacchetto spettacolo e lo vede realizzare all'interno di quella che possiamo definire la sua capa. Rilascio la parola a Magno Marrone. Buonasera a tutti, intanto ringrazio Francesco e Ancors per avermi ospitato e mi chiesto di intervenire. Riascoltando la presentazione che mi hai fatto mi viene da ridere rispetto a quello che dicevano Angelo e Paolo sul fatto che il mondo della cultura è invisibile, il mondo degli spettacoli, i lavoratori dello spettacolo. Voi immaginate me che vengo dal mondo dello sport minore quanto sono invisibile e quanto siamo invisibili noi che nemmeno ci siamo organizzati, nemmeno in questo momento. Siamo stati capaci di non riuscire a trovare un filone unico per andarci a lamentare o comunque per andare a proporre le nostre problematiche al governo. Per cui salterei a pie pari la parte della lamentela e delle problematiche rispetto alla cancellazione degli eventi perché ne avete parlato, se vogliamo parlare di tutto quello che è saltato nel mio palazzetto nell'ultimo anno, credo che mi viene da sbattere la testa contro uno spingolo e quindi preferisco evitare. Come dire, prendo spunto dal titolo di questo webinar che è The Show Must Go On con il punto interrogativo perché onestamente vorrei cambiare, cioè il punto interrogativo lo vorrei trasformare in punto esclamativo. La cosa che mi fa piacere è stare qua a parlare con gente seria, preparata, l'eccellenza di questo mondo è che si sente la passione, la voglia di ricominciare e la propensione a ricominciare. Questo per me è fondamentale. Noi, ripeto, abbiamo anche cominciato a riprogrammare, ricalendarizzare gli eventi che sono stati annullati, stiamo già cominciando a pensare a quali saranno i tempi per ricominciare a lavorare, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Su altri argomenti, lo sport non se ne parla proprio, per fortuna, come si diceva Angelo prima, cerchiamo di differenziare le nostre attività con qualche concorso, con qualche evento di questo genere, e magari riusciremo ad anticipare la ripresa, che sicuramente sarà dall'automobile, se tutto va bene. Noi che siamo al chiuso, sicuramente l'estate ce la saltiamo. Quello che posso dire, che mi interessa dire, è che in questi pochi mesi in cui abbiamo potuto provare a gestire qualche evento sportivo, non sportivo, piccolo, chiaramente, per i famosi 200 posti, che sono un numero assurdo, per un pazzetto da 5.000 posti, noi siamo pronti, nel senso che non abbiamo paura di ricominciare, siamo abbastanza sicuri che saremo in grado di garantire, come abbiamo sempre fatto, la sicurezza dei lavoratori prima di tutto, degli spettatori altrettanto, insomma, in parallelo, perché questo l'abbiamo sempre fatto, siamo sempre stati pronti a rispettare tutte le normative che sono venute fuori, anche nel tempo, diciamo, io sono entrato nel 2010, già c'era la maggior parte delle normative, al massimo si è aggiunto l'antiterrorismo, ma per il resto era già tutto pronto, e onestamente siamo stati pronti. Ci stiamo provando ad immaginare, parlando della sicurezza del pubblico, di creare delle app, dei sistemi comunque a distanza per la prenotazione dei biglietti, la prenotazione dei posti, anche proprio l'accesso senza bisogno di biglietti cartacei, per cui per ridurre gli assembramenti, le file, eccetera, addirittura stiamo pensando alla parte anche del food and beverage con un bar che funziona tra virgolette a domicilio, cioè non c'è bisogno di andare al punto ristoro, ma con un'app, un'app, un'applicazione sarà possibile ordinare e ci saranno dei nostri addetti che porteranno l'ordine al posto, visto che i posti sono numerati, quindi anche per dire ad Angelo noi siamo pronti, siamo già pronti anche su questo, cioè ci stiamo organizzando perché sia possibile tutto questo, anche a preparare un'installazione di sedie, che chiaramente dovranno essere provvisorie, ma già più o meno predefinite in modo da non creare ogni volta un allestimento nuovo che può sconvolgere le situazioni. Noi ci stiamo preparando, io un po' per non essere troppo lungo, un po' per essere per piageria nei vostri confronti, devo dire una cosa, e cioè che, come dicevo io, vengo dal mondo dello sport, dieci anni fa mi sono trovato a gestire questo palazzetto quasi per caso, e se c'è una cosa che ho imparato da voi, cioè da voi del mondo dello spettacolo, voi che arrivavate e in mezza giornata ci avete ribaltato in palazzetto, ci avete trasformato in un posto bellissimo dove ospitare spettacoli fantastici, è che non esistono problemi, ci sono solo soluzioni. Questo per me è un insegnamento, c'è Nino Leonetti qua che lo vedo al centro della mia schermata, è stata una delle persone che mi ha letteralmente portato mano a mano a risolvere i problemi più assurdi per me che venivo dal mondo dello sport e dalle partite di pallavolo, voi immaginate di che cosa mi ero occupato prima, e dovevo risolvere i problemi dei facchini, degli estintori, non lo so, immaginatevi delle uscite d'emergenza o delle transene che non c'erano. Ecco, è grazie a gente come voi che sono riuscito a diventare un professionista della gestione degli eventi e adesso credo di essere in grado, anzi sono certo che saremo in grado, di trovare qualsiasi soluzione sarà necessaria per garantire la sicurezza del pubblico, la sicurezza dei lavoratori, l'efficienza dello spettacolo, perché chiaramente questa deve essere la bellezza dello spettacolo, e non ultimo la riuscita economica per tutti dello spettacolo stesso, perché sicuramente ci saranno normative nuove e che prevederanno ulteriori spese, ulteriori interventi economici, e di questo in qualche maniera dovremo trovare delle soluzioni tutti insieme, perché anche dal punto di vista economico lo show abbia successo, non solo dal punto di vista dell'efficienza delle strutture o della bellezza dello spettacolo. Ecco, questo è il messaggio che mi sento di dare in un webinar del genere, togliamo il punto interrogativo, mettiamo il punto esclamativo e confidiamo nelle nostre capacità di risolvere qualsiasi problema e anche quando le normative saranno piuttosto insensate, o abbastanza insensate, sono certo che sapremo trovare delle soluzioni per adattarci e per far sì che lo spettacolo continui. Grazie a tutti. Ok, grazie Emanio, in realtà hai fatto un doppio assist, tu vieni dal mondo della pallavolo, ma mi sa che ti devi stare al calcio, perché hai nominato sia l'ingeglionetto e poi hai parlato anche di strutture, quindi progettazione. A questo punto seguiamo il nostro timing, il nostro programma e quindi introduco l'ingegnere Icaro Daniele. Lui inizia la sua attività nel 1995 occupandosi di progettazione e calcolo strutturale di edifici civili e industriali si dedica negli anni successivi anche alla progettazione architettonica per il aumento di interni e consulenza tecnica per l'Itale. Contestualmente si specializza poi nella modellazione strutturale dei enti finiti di strutture per le costruzioni civili e per il settore meccanico con la progettazione e verifica di elementi metallici e plastici. È appassionato ovviamente fortemente per quello che si definisce ambiente dinamico, sia per quanto riguarda lo studio dell'impatto di fenomeni sismici sulle civili costruzioni, che per gli effetti dinamici indotti da movimentazioni o vibrazioni in genere. Grazie alla dotazione di software di calcolo specifici comincia poi ad effettuare anche l'analisi di elementi e materiali diversi. Dal dicembre 2011 però inizia a prestare servizio per il settore dello spettacolo, sia nel calcolo delle strutture che nella direzione lavori in giro per l'Italia e anche all'estero, attività della quale oggi si occupa in via quasi del tutto esclusiva e nella quale ovviamente giorno dopo giorno, grazie all'esperienza di cantiere, si specializza divenendo, e non dico un'eresia, il numero uno in Italia, il massimo esperto in Italia di strutture per lo spettacolo. Praticamente un'eccellenza italiana. Lascio lui la parola ringraziando ancora per il suo intervento. Ciao, un saluto a tutti e ti ringrazio per la presentazione, è troppo buona, diciamo che cerchiamo di darsi da fare insieme ai nostri colleghi e miei colleghi per rendere questo mondo di per sé così bello anche il più possibile sicuro. Cercherò di limitare al massimo l'intervento vista l'ora. e volevo mettere l'attenzione su tre punti principali. In questi giorni, grazie anche a Bole in Piazza, con Bole in Piazza, con il quale collaboro con Paolo, ho avuto modo di fare una specie di intervista, di cercare dei numeri dei nostri colleghi architetti, geometri, ingegneri, periti che seguono questo mondo. Abbiamo scoperto che la maggior parte di noi non lavora in questo mondo così come quasi fosse una seconda professione, la maggior parte di noi è dentro a questo mondo per l'80% in media del loro fatturato, del loro guadagno. tolte alcune realtà dove il lavoro nel mondo dello spettacolo è di minima, ci ritroviamo quindi ad essere un gruppo di tecnici iscritti a dal di più ati, totalmente dimenticati dalle istituzioni perché abbiamo i nostri ordini professionali che sono convinti che noi si faccia un lavoro totalmente differente, magari in edilizia, nell'industria, e quindi ci dicono, vabbè, voi continuate a lavorare, non avete problemi. La parte, diciamo, tra virgolette, INPS non ci considera perché appunto siamo di ordini privati, quindi casse private, e quindi abbiamo decine e decine, centinaia di tecnici che quest'anno hanno visto i loro guadagni ridursi dell'ordine dell'85-90% in media, in alcuni casi di più, in alcuni casi di meno, ma la media è questa, purtroppo, e che al momento non hanno avuto nessun riscontro dal punto di vista delle istituzioni. Con un bauro in piazza stiamo tentando di far capire che ci siamo anche noi che operiamo in questo settore, che non facciamo in tempo, in pochi mesi, a riconvertirci magari ritornando all'edilizia o all'industria perché il tempo della riconversione probabilmente, anzi, speriamo, coinciderebbe con la ripresa del mondo della musica e dello spettacolo. Oltre a questo ho riscontrato, purtroppo, parlando con molti miei colleghi, anche un altro fattore, un fattore di disagio, di depressione, se così la possiamo chiamare, purtroppo. C'è proprio un disagio di persone che si sentono sole e abbandonate e con i computer spenti, con il telefono che non squilla, con il completo abbandono da parte di tutti. Quindi anche questo creerà un problema sociale, non indifferente, che è legato non solamente al mio settore, ma un po' a tutte le persone che non ho parlato fino adesso. Per la ripresa, cosa dire? Di certo la parte strutturale non comanda questo aspetto, ma secondo me dobbiamo stare attenti a due fattori in particolare. Nell'indoor non possiamo fare più di tanto perché sperando che i posti vengono dati con una percentuale sulla capienza effettiva, le installazioni saranno pressoché identiche a quelle di prima. All'aperto invece potremo anche ipotizzare che per allargare lo spazio dedicato ai spettatori ci sia anche una richiesta nel primissimo periodo, che mi intorno alla normalità, una richiesta di strutture che siano magari un po' più alte e un po' più con strutture intermedie per andare a raggiungere i punti più lontani dell'area dello spettacolo che si presume possano, dove è possibile, ovviamente essere amplificati. Questo poi si riporterà ad un ermoso problema legato alla sicurezza dove molto spesso tutto quello che è struttura, anche altro, però tutto quello che è struttura viene considerato come qualcosa di sembra quasi non importante o secondario. Quindi, quando si parla di budget, quando si parla di soldi, ce ne sono sempre stati pochi a volte per studiare o per ottimizzare questo aspetto legato alle strutture che alla fin fine invece sono molto importanti per la sicurezza degli artisti e del pubblico presente. e quindi io auspito e tenteremo in tutti i modi di far passare questo segnale che venga posta la giusta attenzione su questo aspetto e che la ripresa sarà sicuramente una ripresa legata a dei problemi economici di budget, ma questo non deve essere permesso. Noi stessi dobbiamo porci per primi per evitare che ci sia una disattenzione, una mancanza di attenzione su questi aspetti che ci vengono tolte ancora risorse perché creeremo in questo modo un ambiente molto pericoloso, una situazione molto pericolosa da evitare in tutti i modi. Per quanto mi riguarda, ti direi qui in vista l'ora, poi se ci sono qualcosa, qualche intervento, qualche domanda, ti ringrazio e anche in questo caso faccio praticamente un stato, quella che è la progettazione delle strutture ovviamente all'intervento, all'adeguamento del pubblico spettacolo, a questioni di servizi e seguri e a questo punto introdurrei l'ingegner Lionetti, che è un mentore del settore. Prima di conoscerlo, diciamo che poteva apparire quasi come una figura mitologica, anche perché lui è una di quelle figure che è sempre sul campo, è miricoloso, puntuale, professionista comunque all'avanguardia, con un'esperienza veramente pluriennale. Sino agli anni 90 è tecnico e incaricato per l'espletamento dei progetti di adeguamento e delle pratiche finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo, per i teatri, cinema, discoteche, locali di pubblico spettacolo in genere. Banta nel 97 la prestigiosa consulenza tecnica anche per l'estimenti temporane dei vari campi di gara della direzione del Mediterraneo. A partire dal 97 è tecnico e incaricato per il progetto di finalizzate l'ottenimento dell'agibilità per eventi temporanei di pubblico spettacolo per committenti pubblici e privati, tra i quali anche Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Bari, Fondazione Petruzzeri di Bari, Telenorba, Dallionale, insomma ci sono tantissimi, praticamente per tutte le agenzie nazionali dello spettacolo, oltre che per Bari promuotere locali. Da 2000 è tecnico e incaricato per l'ottenimento dell'agibilità di pubblico spettacolo per i godanni in cazzo della città di Bari. Specializzato in impianti elettrici e tecnico antincendio, dal 2017 è tecnico e incaricato per seguire i sicuri di elementi temporanei di rilievo nazionale, docente in vari corsi di formazione professionale della Regione Puglia in ambito dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, è già componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, insediata presso la prefettura di Bari, quale esperto in elettrotecnica. Praticamente basterebbe già il curriculum per garantire nella schiettezza delle sue parole lo spessore dell'intervento di un duro del settore spettacolo. Lascio la parola all'ingegnere Leonetti. Aspetta che hai il muto. Grazie Francesco per avermi dato la parola. Troppo buono, cercherò di essere breve anch'io, visti i tempi. Un paio di esperienze l'abbiamo fatta. I cabelli sono ormai diventati bianchi, sia per le responsabilità di questi ultimi 30 anni, perché davvero sono stati anni impegnativi. Però quello che ci ha accomunato e credo che abbia accomunato un po' tutti quanti noi che siamo qui davanti a questo computer in videoconferenza è la passione, perché molto spesso probabilmente se non avessimo avuto la passione, oltre che la necessità di lavorare, probabilmente ci saremmo dedicato ad altro e io avrei continuato a fare l'ingegnere elettrico che facevo prima con molta più tranquillità, stando molto più tempo a casa, piuttosto che cercare di far divertire la gente e quindi mentre la gente si divertiva noi siamo sul campo e questo accade nei capodanni, accade a Natale, accade durante il periodo estivo. Il mio punto di vista, io mi occupo ormai di agibilità quest'estate ho lavorato, devo essere sincero, non mi posso lamentare, chiaramente non nel settore dei grandi live. Fortunatamente, parlo della regione Puglia, ci sono state tutta una serie di iniziative finanziate dagli enti pubblici e quindi parlo di regione e comune che hanno consentito di poter mantenere alcuni canali del settore consentendo delle produzioni sia pure ridotte. Quello che ho potuto avvertire io personalmente è stata anche un po' di paura da parte della gente nell'arrivare nelle sedi dei concerti, nelle sedi degli spettacoli. Il Covid ci ha portato a tutta una serie di procedure che hanno ulteriormente aggravato sui costi di produzione dell'evento. Il nostro mondo negli ultimi tre anni è cambiato completamente perché dopo Piazza San Carlo per gli eventi all'aperto abbiamo dovuto sottostare a tutta una serie di misure gravemente penalizzanti per gli organizzatori in termini economici proprio per le misure di safety e security. Adesso ci ritroviamo con le misure ci siamo ritrovati quest'estate con tutte le misure aggiuntive per quanto riguarda il Covid delle disposizioni a livello nazionale non chiare perché si parlava di distanza di un metro poi sono intervenuti congiunti poi si andava con la ASL di competenze questo discorso dei congiunti non andava bene arrivava la questura o comunque il comando di carabinieri locali e certe soluzioni tecniche non venivano accettate cioè c'è stato un po' una confusione a livello nazionale interpellato degli amici che lavorano sono dei tecnici dei vigili del fuoco si aspettavano delle linee guida quest'estate queste linee guida ovviamente per quello che possiamo immaginare un po' tutti quanti non sono mai venute fuori passato andiamo al futuro quello che ci possiamo aspettare quello che auspichiamo è sicuramente dopo l'introduzione che è stata fatta da Paolo Rizzi precedentemente è che 80 componenti mi spaventano cioè mi spaventano già tre componenti in genere quando ci si siede intorno a un tavolo 80 sono davvero preoccupato spero che si possa arrivare ad un punto che possa raccordare le varie posizioni quello che auspico è davvero che ci possa essere un tavolo interministeriale che abbia che vedere con la cultura con il lavoro con l'economia con la finanza con lo sviluppo economico e con i membri del comitato tecnico scientifico e stabilire delle linee guida che però non sono facili da stabilire io ho visto delle bozze che sono circolate anche da parte di di Assomusica e da parte degli altri partner sono delle ottime basi di partenza si tratterà poi di andarli ad applicare nello specifico in parallelo perché abbiamo sempre il carico da 11 molto spesso che ci viene aggiunto dal punto di vista delle normative antincendio è prevista una revisione di quello che è il decreto in base al quale noi effettuiamo o andiamo avanti con l'agibilità che è il decreto del 1996 ci dovrebbe essere una nuova regola tecnica che imporrebbe ulteriori misure aggiuntive e queste avranno sicuramente delle ripercussioni sia per chi fornisce l'evenio quindi per quanto riguarda le strutture che hanno una un'agibilità di partenza e dove temporaneamente vengono effettuati gli spettacoli ma anche per gli eventi temporanei all'aperto questo da un lato dall'altro ci sarà tutta una questione circa i materiali sui quali bisognerà lavorare e poi non ultimo quelle che saranno le situazioni proprio per quanto riguarda il contenimento delle misure anti-covid ovviamente perché quest'estate anche per eventi piccoli abbiamo assistito a tutta una serie di indicazioni che erano andavano bene funzionavano benissimo sulla carta nel momento in cui si dovevano andare a mettere in pratica arrivava il componente ASL di turno all'interno della commissione ed era un rimettere in discussione sempre tutto quanto e con il risultato che si faceva un evento da una parte le stesse misure adottate lì poi spostandosi anche di qualche chilometro finivano con l'essere completamente smentite e quindi bisognava ricominciare tutto quanto da capo quindi il fatto che ci possano essere delle linee guida nazionali chiare che possano essere utilizzate a livello non solo del regionale ma in un ambito appunto nazionale io credo che sia una delle prime cose sulle quali possiamo dobbiamo convergere non possiamo fare diversamente gli aspetti dei lavoratori ecco qui entriamo anche nel discorso della sicurezza intesa come oltre che le misure di safety e security per quanto riguarda le misure della sicurezza per quanto riguarda i lavoratori anche quest'estate abbiamo cercato con i coordinatori della sicurezza di attuare quelle che erano le misure minime necessarie ma anche lì applicazione un po' faraginosa e parliamo di piccoli eventi quindi estendere queste misure ad eventi che abbiano una portata di pubblico tali quelli degli eventi live all'aperto ecco ci vorrebbe un'organizzazione davvero complicata da mettere sul campo con un impiego anche di mezzi e di risorse non indifferenti e questo comporterà delle ripercussioni sia sul movimento che un po' anche su quelli che saranno i costi che tenderanno certamente ad aumentare quindi io vedo al momento un po' di nuvole che si addensano sul nostro settore e auspico che effettivamente ci possano essere delle linee guida poche certe per tutti sulle quali poter muoverci anche perché è un settore di cui parliamo che sono tante le esigenze si va dal teatro dal piccolo teatro che magari ha una capienza di 100 persone poi parliamo di teatri che hanno capienze di 200-300 persone parliamo di cinema parliamo di palazzetti da mille posti ma parliamo di palazzetti anche da 10.000 posti parliamo di festival all'aperto parliamo di stadi cioè parliamo di situazioni che sono completamente diverse fra loro il che mi fa tornare al fatto di essere anche scettico sulla questione che ci si possa mettere d'accordo e arrivare a un punto di rimente che possa essere applicabile per tutti questa è la mia posizione non vorrei togliere ancora spazio visto che siamo andati abbondantemente oltre quelli che erano gli orari che avevamo concordato e grazie a tutti per questi contributi che ritengo siano stati davvero preziosi grazie 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 genio Leonetti ovviamente le visioni seppur hanno linea come sia diciamo tesa al post epidemia possono in altri casi non sembrare differenti ma comunque sia avere anche chi mostra diciamo un po' più di scetticismo chi magari riesce ad essere anche un po' meno magari pessimista anche perché può essere forse anche l'esperienza che fa pensare diciamo diversamente quindi in questo caso lascerei voi aggiungere due parole perché adesso col tuo intervento mi è venuto in mente quello che avrei voluto dire prima queste norme che si intravedono questa nuova regola tecnica verticale porta ad una differenziazione delle uscite rispetto agli ingressi nelle venue questo comporterà una riduzione anche delle capienze e questo sarà un altro problema che sarà da gestire ci troveremo tutta una serie di situazioni che dovremo gestire speriamo di essere in grado e speriamo che il movimento possa essere tale da poterle sopportare tutte quante queste queste novità a cui andiamo sicuramente in compito mi taccio definitivamente grazie assolutamente anche perché come diceva Magno siamo poi sempre pronti ad adattarci e a cercare in ogni modo diciamo ad ogni modo di far diciamo di cancellare quello che era il punto interrogativo al al titolo del webinar in modo tale che lo spettacolo lo si faccia quindi a questo punto dovrei introdurre l'ingegnere Mario Betrella che è lavorato in ingegnere civile e gestionale ma che inizia la sua attività nel settore dello spettacolo nel 99 in qualità di geometra come tecnico incaricato per l'ottenimento dell'agibilità per eventi di spettacoli nei palazzetti e negli stadi presta la sua collaborazione per aziende del campo dello shore relativamente alla loro logistica negli anni ha maturato ovviamente anche una grande esperienza nel campo della sicurezza sul lavoro trovandosi a cavallo l'applicazione della normativa ex 626 494 e poi l'8108 con se non ultimo il decreto pacchi e fiere si occupano di verifiche e calcoli per strutture reticolari per aziende dello spettacolo se volessimo diciamo citare alcuni degli ultimissimi lavori di rilevo dell'ingegnere Mario Betrella ricordiamo Sarremo 2020 per la gestione di logistica e produzione per il consorzio gruppo eventi e rai pubblicità 48esimo edizione di settembre al borbo 2020 come direttore di produzione Sponsfest 2020 con lo studio applicazione delle ordinanze per la gestione dei flussi piani anti-covid mondiali di SCIL 2020 2021 per rai sport progettazione casa veneto a cortina d'ampezzo ho avuto il periodo di riconoscerlo durante una sua direzione di lavori mentre eseguivo il coordinamento sicurezza per allestimento strutture per un evento presso l'arena delle vittorie di Bari e mi colpì tantissimo la sua praticità e la capacità di adattamento alle situazioni critiche o meno critiche un professionista sicuramente solido e anche poliedrico perché riesce ovviamente proprio con la sua praticità a fornire un grande grandissimo supporto alle produzioni tant'è vero che lui si presenta anche come possibile direttore di produzione tant'è vero che ha seguito appunto diversi eventi come direttore di produzione quindi non solo tecnico specialista ma in questo caso anche direttore di produzione quindi lascio la parola a Mario ti ringrazio sei gentilissimo e sei stato molto buono non per carità sono un piccolo direttore di produzione perché ce ne sono tanti che sono più grandi e di tanta altra esperienza molto più grossa posso dire soltanto che dopo aver sentito a Rizzi a Camporese a Icaro a Cera tutti chiedo scusa se non ero tutti quanti c'è forse un punto in realtà dobbiamo essere realisti non disfattisti realisti che oggi come ben sappiamo non si sta lavorando Rizzi ha detto una bella parola prima il governo non ha cioè il ministero non ha le idee chiare ma forse poi tutto il governo che non ha ancora capito che cosa vuol fare da grande vabbè lasciamo stare quella è politica il ministro il ministro che ci ci dovrebbe sostenere non sa neanche che forse esistiamo e giustamente Paolo ha detto ora si sta si stanno si sta aprendo quest'altra pagina per vedere che esistiamo per davvero sì è stato un anno terrificante però cercheremo di per ora stiamo sopravvivendo grazie a Boli in piazza e gli altri associazioni faremo cioè stanno facendo in modo tale che diciamo stanno dando un aiuto un grande aiuto per farci conoscere perché non siamo non siamo invisibili vorrei dire noi siamo visibili ci siamo e questa è una cosa importante e come diceva Camporese è un nostro è un lavoro reale perché non è possibile che vada all'estero esiste questo lavoro stiamo in Italia io ma tutti voi come noi ci viviamo con questo lavoro perciò il lavoro è reale ed è vero anche il fatto del terrorismo sulla comunicazione è sbagliatissimo cioè ci hanno distrutto così però come diceva prima sia Icoro che poi l'ha ripetuto anche Leonetti la bisogna eh ora bisogna tenere la testa ad alta perciò eh cercare di non affogare ma di sopravvivere e di dare una forza eh sia sostenibile alle persone perché se no oggi ormai è quasi perso il lavoro per chi fa il affacchino per tutti in realtà perciò eh forza forza Boli piazza che ci dà una mano e nulla io ti ringrazio scusatemi poche parole di quello che ho detto e niente ti ringrazio Francesco e passo la via grazie Mario io a questo punto diciamo per un po' tirare le fila diciamo di tutto questo incontro vorrei che intervenisse a questo punto ingegnere Danilo Vienno un tecnico specializzato nella progettazione e gestione tecnica di luoghi manifestazioni di spettacoli indoor e esperto in analisi fluidodinamica degli esodi in acustica ambientale ed architettonica per luoghi di intrattenimento il direttore tecnico della società control room srl per elencare tutti i suoi lavori probabilmente non basterebbe l'intero webinar però la sua esperienza ultraventennale nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento fanno di lui uno dei massimi tecnici esperti anche a livello nazionale a lui l'onere come dicevo prima di tirare le somme di questi interventi fin qui ascoltati fornendoci magari anche un'ulteriore visione d'attore principale e individuando magari eventuali opportunità in un momento praticamente di stallo quindi lascio la ruola a Danilo io ti ringrazio Francesco innanzitutto per la bellissima presentazione saluto tutti i colleghi qui e ringrazio le persone che ci stanno comunque ascoltando che dire comunque è stato detto tutto perché abbiamo analizzato il nostro mondo a 360 gradi da chi lo produce a chi lo sorveglia da chi lo produce a chi lo progetta a chi alla fine poi lo sorveglia per essere realizzato la cosa importante è che comunque questo momento che è un momento o comunque di smarrimento non venga lasciato tale cioè occorre che comunque sia un momento di ripartenza e comunque Bauli in piazza di cui sono onorato di farne parte sta studiando per questo e deve essere anche un momento comunque perché come diceva l'ingegnere Leonetti alcune problematiche che sono connesse proprio al nostro mondo quindi ai grandi ambiti normativi di cui noi molte volte ci dobbiamo trovare a districare per trovare il bandolo della matassa possano venire risolte quindi la cosa importante è che adesso siamo come abbiamo detto tutti chi più o meno fermi si lavori insieme si cerchi comunque insieme di trovare una soluzione condivisa e univoca perché uno dei grossi problemi come hanno detto anche comunque i colleghi qui è l'univocità comunque delle scelte delle norme e delle linee interpretative addirittura delle norme stesse noi siamo adesso in un momento di stallo questo momento di stallo deve essere un momento per cui quello che va bene a Palermo deve andare bene anche a Milano quello che è snello a Osta deve essere snello anche a Taranto quindi un momento anche per noi come tecnici di non subire solo questo stop in una maniera del tutto passiva ma anche noi come comunque tecnici che come diceva Icaro alcuni di noi riescono ad avere anche l'80 il 90% del loro fatturato all'interno del mondo dell'intrattenimento del pubblico spettacolo possano essere testimoni quindi portare avanti questa richiesta comunque di cambiamento anche nel mondo normativo perché se una norma è più semplice è più semplice lavorare e anche costa di meno andare a realizzarla quindi come diceva il dottor Marrone non ci si deve trovare dinnanzi a un dedalo di norme che fra estintori o comunque mille altri equipment che devono essere messi in atto possano diciamo andare a complicare la vita a chi organizza un evento secondo me deve essere questa una occasione per portare il tutto alla semplicità però tenendo comunque anche un occhio ben fisso al fatto che come dicevano altri colleghi qui il fatto di ripartire comporterà l'istruzione quindi il reinserimento all'interno del nostro mondo di figure che magari questo mondo qui perché alcune sono andate via non l'hanno mai visto e non l'hanno mai vissuto quindi noi dobbiamo ripartire tenendo alta l'asticella della qualità anzi tenendola ancora più alta perché comunque il fatto di essere come diceva Angelo io mi definisco sempre un giostraio evoluto invece che un circense essere comunque sempre visto come un giostraio evoluto non funziona noi abbiamo e io ho fatto parte anche insieme a Ica e a Paolo di tanti tavoli dove comunque ci vedevano dapprima veramente come dei giostrai ma poi sentendo comunque la competenza tecnica e sia da un punto di vista proprio tecnico di ambito scientifico anche da un ambito in ambito gestionale la gente si deve ricredere perché noi siamo comunque un mondo altamente specializzato e la cosa importante è che questo messaggio passi e venga comunque riconosciuto quindi riassumendo secondo me The Show Must Go On come dicevano non ci deve essere il punto interrogativo ma deve essere comunque senza punto interrogativo deve essere proprio lo spettacolo deve continuare ancora meglio di come si è fermato io ho finito grazie ok intanto ringrazio sicuramente tutti aggiungo solamente visto che sono arrivate due due quei siti visto che ci siamo la buttiamo lì io la butto anche all'interno della nostra chat privata la prima domanda dice questo pensate che con una possibile ripartenza dopo il lockdown imposto del covid-19 crescendo il bisogno poi di riappropriarsi degli spazi culturali gli eventi possano essere realizzati con numeri vicini a quelli del passato o dobbiamo comunque rassegnarci questa è una bella domanda ma guarda prova a risponderti io poi magari mi vengo dietro gli altri io ho fatto parte del primo gruppo che insieme a Su Musica ha cercato nel marzo del 2020 appena è partita la pandemia di tirare fuori delle linee tecniche di indirizzo per il discorso di far comunque ripartire gli eventi gli eventi potranno ripartire anche comunque nelle situazioni pre-covid ma andando comunque a mettere una base fondamentale che è quella comunque della responsabilità personale noi adesso possiamo fare eventi da 50.000 persone 30.000 persone no perché la norma non ce lo permette ma anche perché comunque lo stesso legislatore è bene o normale andando comunque sempre adottare il principio del buon pane di famiglia quello di massima tutela e di autotutela si rende conto che il comportamento comunque della gente quindi del pubblico io lo chiamo agente per le formazioni professionale non è comunque ben definito ci sono troppe variabili diciamo così siamo tutti maleducati quindi dal momento che comunque anche il pubblico si rende conto della realità delle cose e si rende conto che questa dinamica può essere portata avanti è una situazione emergenziale secondo me si potrà ricominciare il problema è che comunque quando si danno un dito di libertà è ovvio si vede ed è umano per l'amor di Dio e ci si prende tutto il braccio e nello stato attuale delle cose purtroppo chi ci governa questa cosa qui non la volevo vedere quindi comunque sia come anche Angelo nel suo intervento che l'ha lanciato il concetto del tra virgolette un intervento quasi psicologico anche sullo spettatore teoricamente è un elemento di fondamentale importanza prima che poi si riparta perché anche la paura poi dello spettatore può essere un elemento diciamo che abbassa quei numeri magari nonostante poi invece c'è la possibilità di fare eventi con numeri differenti da quelli che sono stati imposti fino ad ora probabilmente un'altra domanda che è stata posta è questa potrebbe esserci un'ulteriore ricaduta per paura di poter contrarre comunque il virus anche con tutte le misure ed eventuali protocolli messi in atto beh da quello che si vede in giro nelle varie città dal punto di vista del pubblico probabilmente no è una cosa forse più una paura più a livello istituzionale o a livello di chi organizza le cose mi pare che appena aprono non una porta ma uno spiraglio la gente subito tenda a riaggregarsi con me nella genetica del mondo quindi credo che questo sarà un problema ma probabilmente l'ultimo dei nostri problemi avremo di ben più pesanti per me assolutamente allora prima poi di io intanto ringrazio e saluto tutti però probabilmente faccio fare solamente l'ultimo intervento al presidente di Anchor se voleva ovviamente ringraziare tutti voi non vi conosce ovviamente personalmente ma vi volevo ringraziare per aver partecipato e contribuito ovviamente con i vostri interventi a questo webinar quindi dando forte spessore appunto all'incontro quindi datemi soltanto un attimo facciamo fare intervento anche al al presidente nel frattempo vedevo che Icaro ci aveva postato l'indice reti nazionale che scende 0,82 effettivamente un buon segno quindi probabilmente qualcosa sta cambiando approfittiamo di questo momento per dare ogni tanto anche qualche notizia positiva visto che è da dieci mesi e siamo bombardati solo da notizie negative quindi quando c'è qualcosa di buono diciamocelo sono perfettamente d'accordo quando parlavo di serenità prima è una serenità che deve arrivare a tutti a noi perché dobbiamo uscire da questa situazione ma soprattutto una percezione del pubblico che poi ricade anche sui governanti cioè su chi rappresenta ovviamente se non ci sarà questa serenità i grandi eventi ti rivediamo cioè 2023 se va bene c'è delle cose molto molto a lungo termine quindi mi preoccupa solo purtroppo chi aveva fatto grandi investimenti nel nostro settore che si è trovato da una parte a nulla e con grosse preoccupazioni perché le banche poi ti appoggiano fino a un certo punto poi ci sono problemi di procrastinare rifare tutte le pianificazioni resti in apnea e questo crea ulteriore ansia e certo non facilita la serenità che è quella che auguro bene a parte che vi volevo ringraziare voi ho seguito tutti gli interventi che ho trovato particolarmente interessanti vorrei ringraziare chi ha partecipato a questi eventi come pubblico i professionisti che finora si può dire hanno resistito abbiamo sporato tranquillamente però credo che quando un convegno un webinar affronta dei temi particolarmente interessanti non te ne accorgi nemmeno cioè in realtà adesso che Francesco mi ha chiamato visto che effettivamente eravamo andati ben oltre e mi fa piacere che le persone si siano soffermate assieme a noi comprendo benissimo quali sono le esigenze e soprattutto le richieste del settore perché è chiaro che in questo momento la crisi ha toccato in modo molto particolare il settore dello spettacolo ricordo che lo spettacolo è vita lo spettacolo va fatto live altrimenti perde completamente il senso di quello che facciamo e di quello che viene costruito è un'emozione che non si può trasmettere anche se ci stiamo provando perché ho toccato lo dobbiamo fare va trasmessa dal vivo e cosa dire io ho trovato molto interessante anche l'iniziativa di Baule in Viaggio giusto se ho sentito bene e che come professionisti della sicurezza ci piacerebbe partecipare appoggiare diffondere perché siamo tutti quanti remiamo tutti dalla stessa parte è chiaro che poi professionisti soprattutto quelle persone che io ho sentito chi citava chi lavora praticamente senza avere un contratto definito di lavoro chi come noi vive di quello che produce e che da una parte sembra che qualcuno se ne sia dimenticato facendo una sorta di garantismo per alcuni di protezione per altri e di dimenticanza per per i tantissimi che poi di questo problema ne stanno offrendo le pene sia da un punto di vista professionale ma anche soprattutto da un punto di vista economico quindi ribadisco l'esigenza di di fare squadra di condividere i progetti di presentare oggi il tema di questa giornata di webinar era rilanciare la sicurezza facendo cose semplici ecco rilanciare proprio tutti i settori partendo da proposte semplici che possano essere condivisibili e facilmente fatte capire a chi poi le deve mettere in atto questo credo che sia in questo momento il nostro il nostro compito e cerchiamo di assolverlo nel migliore dei modi spero di poter che si possa riproporre eh questo convegno anche e soprattutto dal vivo eh è un auspicio che ci facciamo ma nel caso questo non fosse e chiaramente lo sappiamo tutti che non sarà facile farlo a tempi brevi in un convegno dal vivo di riproporlo eh altre volte con queste modalità perché poi quando si diffonde la voce quando quando si capisce che si sta facendo servizio a tutti tutti quelli che sono del settore ma soprattutto tutto quello che può essere il pubblico interessato poi ad avere e a cui la mancanza oramai eh si avverte è chiaro che poi si avvicineranno e comprenderanno le nostre esigenze e sarà quello poi la leva per portare le nostre istanze a chi di dovere bene io vi ringrazio di nuovo a tutti per la presenza è stato un piacere un onore avervi con noi e alla prossima domica lascio la parola a Francesco per un ultimo saluto e ritorno sei bellissimo Francesco devi attaccare l'audio Francesco a parte a parte praticamente eh diciamo siete rimasti collegati che voi insomma all'interno diciamo del webinar vi ho praticamente rubato del tempo comunque anche in questi in questi giorni ma ripeto vi ringrazio veramente di cuore spero che possa essere anche un trampolino di lancio per opportunità diciamo future proprio per per far ripartire diciamo questo questo settore quindi magari farò diventare un chissà un inizio di un qualcosa vi ringrazio a tutti grazie ciao ciao ragazzi ciao 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 Grazie.